È un peccato prendere il primo gol così, perché magari non c'era neanche il calcio d'angolo, come ha detto Omar, io non l'ho visto dal campo, però sicuramente si è stati un po' molli sul calcio d'angolo. Dispiace perché se non c'era il calcio d'angolo, secondo me il VAR poteva intervenire. Abbiamo bruciato bene la gara perché scalavamo in avanti, andavamo a prendere gli alti come ci aveva chiesto il mister e si sono trovati un po' in difficoltà anche loro, pur essendo una buonissima squadra. Abbiamo tenuto 75 minuti, poi la loro qualità è venuta fuori e abbiamo perso il partito. Non dobbiamo pensare sicuramente di essere salvi, bisogna andare a Udine per vincere perché è un'altra finale e con tre punti là possiamo veramente essere quasi salvi. Grazie a tutti.